La Toscana non è terra di mafia, ma la mafia c'è, come diceva il giudice Caponnetto. A dirlo sono i dati del primo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana, realizzato per la Regione dalla Scuola Normale di Pisa e presentato a Palazzo Strozzi Sacrate alla presenza del Ministro alla Giustizia Andrea Orlando, del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e dell'assessore regionale Vittorio Bugli. Gli interessi dei clan criminali in Toscana sono duplici, da una parte fare affari e dall'altro a reinvestire proventi illeciti maturati altrove. L'impegno toscano contro la criminalità organizzata è stato apprezzato anche dal Ministro Orlando. È una buona prassi che va estesa da altre regioni. La mafia non può essere affrontata solo quando si è un processo o un fatto di sangue. La mafia è un fenomeno anche economico e sociale, per questo come tutti i fenomeni sociali va analizzata per essere compresa, combattuta e credo sconfitta. Non c'è più la Toscana felice, ne dobbiamo essere la bella addormentata nel bosco. Così il Presidente Rossi ha spiegato il senso del rapporto annuale sui fenomeni di criminalità e della corruzione. Questa relazione adesso potrà calarsi nei diversi territori, far crescere la consapevolezza e aiutare anche le procure, le forze investigative, le forze dell'ordine che in Toscana stanno facendo davvero un buon lavoro. Noi vogliamo supportarle perché tutti si possa continuare a pensare che anche per il futuro, il futuro della Toscana potrà essere un futuro sereno. Questa ricerca non ha solo lo scopo di scattare una fotografia dello stato della criminalità e della corruzione in Toscana. La ricerca sarà usata proprio anche a questo scopo, la porteremo in giro nei consigli comunali, produrremo anche della formazione per gli operatori che operano nelle amministrazioni pubbliche, individueremo degli indicatori utilizzando anche l'informatica fondamentale per vincere questi fenomeni. Nel rapporto si legge che il porto di Livorno è diventato uno snodo centrale per i traffici di cocaina diretti da organizzazioni riconducibili all'Andrangheta. Sono invece riconducibili ai casalesi le connessioni fra gioco d'azzardo e usura. La Maremma e la provincia di Siena sono le più esposte al caporalato. Nello sfruttamento della prostituzione i gruppi malavitosi stranieri sono più influenti di quelli italiani. L'ultimo omicidio mafioso è avvenuto nel 2015 a Tirregna. Gli investimenti per riciclare denaro sporco prediligono il settore immobiliare, il turismo e il commercio. In aumento le attività mafiose legate allo smaltimento dei rifiuti, come reati di corruzione alla pubblica amministrazione, triplicati ad Arezzo, in crescita a Firenze, Lucca e Prato. I beni confiscati alla mafia sono in tutto 451, fra cui 46 aziende. Il grosso delle aziende si concentra a Prato e provincia, Lucca, Livorno e Firenze. Grazie a tutti.